Fino al 10 gennaio 2016, 5 istituzioni di Firenze fanno a gara nell'esporre i propri capolavori segreti. Una mostra unica e straordinaria con opere mai esposte prima d'ora. Si tratta della Toscana del Novecento da Rosai a Burri per corsi inediti tra le collezioni fiorentine che sarà ospitata nella splendida location di Villa Bardini a Firenze. Sono circa 120 opere provenienti da 5 grandi istituzioni fiorentine. Il Monte dei Paschi di Siena che oggi è l'attuale proprietario della collezione di Novecento della Banca Toscana di Firenze. Poi abbiamo la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, l'Accademia di Belle Arti, il liceo artistico dell'Istituto d'Arte di Porta Romana. E poi c'è una grande selezione relativa al collezionismo privato. Sono due sale con un percorso che si snoda cronologicamente sul primo e sul secondo Novecento. Il collezionismo novecentesco ha questa connotazione, quello cioè di aver collezionato non tanto per se stessi quanto proprio per l'educazione e per raffinare il gusto del grande pubblico. Quindi la maggior parte delle collezioni novecentesche ha poi preso la via dei musei statali o delle fondazioni private. Potete vedere delle opere che assolutamente sono precluse di solito al pubblico. Sono opere che si trovano nelle segrete stanze, sono patrimoni silenziosi ma estremamente cospicui per qualità e per anche numero che abbiamo voluto in qualche modo riscoprire e ripresentare al grande pubblico. Indubbiamente nella collezione Monte dei Paschi di Siena trovano le opere quasi da manuale come la scuola di Carena o l'equilibrista di Severini o ancora i giocatori di giopa di Rosai. Ma estremamente interessante è anche la collezione di Loriano Bertini che proviene appunto dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze dove ci sono edizioni estremamente rare per esempio di Picasso, di Kandinsky e poi ancora di Duchamp. E anche nella sezione in cui ci troviamo ora che è quella dedicata ai privati, indubbiamente Fontana, questo Pascali, ecco sono opere che raramente si vedono. Ciao!